Il giro d'Italia con Saporitali, ogni giovedì una regione diversa nel menù di Saporitali per scoprire le ricette della cucina italiana, un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Una zampa sul cuore, il ricordo del veterinario velinese Maria Lidia De Rosa, la fatta dei cuccioli, come la chiamavano affettuosamente tutti, volata via il 26 luglio del 2016 prematuramente. Una zampa sul cuore, per non dimenticare nei giorni di festa le persone indigenti, come sottolinea la Presidente dell'Associazione Valentina Gavitone, ma anche i quattro zampe, che tra abbandoni e avvelenamenti anche in città stanno vivendo un momento difficile. A chi dovrebbe tutelare gli animali? Una zampa sul cuore, ma anche una mano sulla coscienza. Io voglio dire che è importante aiutare i meno fortunati in tutti i campi, bambini, ecco, anziani e anche i cani e i gatti meno fortunati. Io ho creato questa associazione per ricordare Maria Lidia, che tanto li amava, mia grande amica, e da anni che faccio volontariato, ma purtroppo gli abbandoni continuano e quindi per forza di cosa ho dovuto creare questa associazione, che spero porterà avanti comunque il mio sogno. Io dico a tutti per questa Pasqua di non comprare, di andare in un canile adottandoli e soprattutto di sterilizzare, perché per ridurre l'antagismo la soluzione è questa, sterilizzare e microcippare. Tra l'altro Valentina non continua solo l'abbandono dei cani, ma anche questi attentati con esche avvelenati che colpiscono anche alcune aree della nostra città, come la Villa Comunale, via due principali. Beh, la cultura è ancora un pochino mancante sul territorio, purtroppo c'è sempre quella la persona intollerante e direi vigliacca, perché prendersela con i cani è molto semplice. Purtroppo non ci sono neanche spazi donei dove poterli portare e anche questo che magari porta le persone all'esasperazione, anche se non vedo questo il modo giusto per risolvere il problema. Anzi, inviterei l'amministrazione a creare più spazi donei dove le persone, che ad Avellino sono tante, possono comunque portare i nostri amici a quattro zampe. Intanto ci mettiamo una zampa sul cuore. Se è possibile, sì, noi siamo qui e vi aspettiamo.